Accesso al mare per i baresi che restano in città. Tanto si parla della riqualificazione delle spiagge di Torre Quetta e Pane e Pomodoro. Molto poco si sa del lungomare nord di Bari. La nostra inviata, Silvia Di Pinto, ha incontrato i baresi che scelgono il litorale di San Girolamo. Sentiamo. Torre Quetta e Pane e Pomodoro da una parte, il lungomare di San Girolamo dall'altra. Sono le 5 del pomeriggio e c'è una striscia di sabbia piena di gente a godersi il mare e la tintarella. Sono gli irriducibili del canalone, i fedelissimi della spiaggia più frequentata del lungomare nord di Bari. Nulla da invidiare al lungomare sud, pulito e di recente riqualificato, ma anche affollato e per qualcuno troppo distante. Il canalone resta per tanti l'accesso al mare più appetibile nelle giornate a fose dell'estate in città. Mi trovo a mio agio quando vengo in questo posto, perché c'è la sabbia, c'è la doccia, c'è il bagno. Sono nato a Bari, però sono un turista. E le piace questa spiaggia, questa zona di costa? Sono due o tre anni che ci vengo qui e sto bene. Però è troppo casino. Sono le persone che vengono con le cose da mangiare, non puoi stare alla spiaggia, non puoi venire a mangiare e stare tranquillo alla spiaggia. Qua è meglio. Qui ci troviamo molto bene, abbiamo girato anche altre spiagge, qui ci troviamo bene. Andiamo bene qua, va bene così. È un posto dove conosco e poi fregando con i miei amici. Di qui ci troviamo abbastanza bene, perché chi abita nell'Interland di Bari, a due passi, con pochi chilometri, in dieci minuti, arriva qua. L'unica pecca è che è solo questo pezzettino qua. Basta però spostarsi un po' più a nord nel cuore di San Girolamo che le lamentele non tardano ad arrivare. I più fortunati approfittano anche di qualche gradino con corrimano arrugginito per bagnarsi i piedi, con un tocco di rammarico per le promesse da 30 anni disattese. Un disabile di San Girolamo non può fare il bagno in questa situazione, perché non ce la fa fare il bagno. E io personalmente l'ho portato a mare, sono passati 30 anni in questa situazione. I problemi comunque ci sono, perché comunque va pulito, cioè va mantenuto. Il decoro è quello che dovrebbe essere la cosa preeminente, però manca. Gli autobus si fanno desiderare, in effetti. Uno schifo, quest'anno non si può proprio stare. Moscerini che danno fastidio, sporcezze a terra. Noi raccogliamo la sera, quando andiamo via, tutte le cose che comunque la mattina non vengono a fare le pulizie. Ciò che fino all'anno scorso c'era. E la sera qua puzza di fogna. Noi purtroppo è per l'esigenza, per la comodità che siamo vicini, veniamo qua a portare i bambini a mare, però vogliamo che qui sia giusta. Grande attesa per il trofeo Team Cup che vedrà sul prato dello Stadio San Nicola le squadre Milan, Inter e Juventus. Appuntamento il 13 agosto. I dettagli nel nostro servizio. 25 mila biglietti già venduti, attesa e tanta curiosità per la prima grande sfida fra le potenze del calcio italiano. Milan, Inter e Juventus che si confronteranno sul prato del San Nicola venerdì prossimo, 13 agosto, per il trofeo Team. Tutte le squadre hanno cambiato allenatore per i rossoneri, ora c'è l'ex cagliaritano Massimiliano Allegri, Nerazzurri hanno affidato il dopo Special One allo spagnolo Rafa Benitez e infine per i bianconeri, dopo la parentesi Zaccheroni c'è Gigi Delneri, presenze confermate dall'amministratore unico di Master Group Sport Giovanni Carnevali. Il 13 agosto c'è questo grande evento dove Inter e Milan e Juventus si incontreranno per la prima volta quest'anno e dove i tre nuovi allenatori delle tre squadre avranno modo di potersi conoscere e incontrarsi. Il triangolare si svolgerà secondo l'ormai collaudata formula delle mini sfide da 45 minuti con eventuali rigori in caso di pareggio allo scadere del tempo regolamentare. I biglietti potranno essere acquistati in tutte le ricevitorie TicketOne online sul sito ticketone.it oppure presso il botteghino numero uno dell'impianto di Bari. E ormai abitudine a pensare, dopo gli ultimi trofei team, che la vincitrice della manifestazione non vinca lo scudetto? A questo no, credo che siano delle tradizioni che debbano essere smentite. Per la città è comunque un momento importante anche perché arriveranno tanti tifosi dall'Interland barese, oltre che i cittadini di Bari, oltre che i tanti turisti che affollano le nostre spiagge, la nostra Puglia in questo periodo. Tra l'altro è un momento importante di promozione del territorio, anche perché ci sarà una copertura televisiva in prima serata su Canale 5. Quindi sono certo che Bari dimostrerà di essere all'altezza di questi eventi che hanno carattere internazionale. Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, ha ricevuto stamani a Palazzo di Città la barese Antonella Albano, ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, che lo scorso 25 giugno, proprio alla Scala, ha danzato accanto alla star del Bolshoe, Alexander Folchkov, interpretando Giulietta in Romeo e Giulietta, forse lo spettacolo di danza più amato di tutti i tempi. Antonella Albano nasce a Bari nel 1982 e si diploma presso la Scuola Paz de Dieu di Fasano, seguendo il metodo Vaganova con l'insegnante Silvia Umaila. Dopo aver seguito diversi stage con maestri classici e contemporanei, vince come migliore interprete femminile la Scarpetta d'Oro a Verona e successivamente ottiene la missione agli studi dall'Accademia Nazionale di Danza a Roma. Nel 1995 viene ammessa agli studi presso il Teatro alla Scala di Milano e dal 1999 in poi ottiene numerosi premi e nel 2000 entra a far parte del corpo di ballo del Teatro alla Scala. Notte di vino, notte di stelle. Questa sera nel centro storico di Lecce è la seconda tappa di Calici di stelle, l'evento più suggestivo dell'estate ideato dal Movimento Turismo del Vino Puglia, che cade proprio alla notte di San Lorenzo. Oggi la Luna lascerà la scena alle stelle cadenti che non saranno disturbate nei loro luccicare. La serata prenderà il via con la cerimonia di consegna del premio giornalistico Salento Negro Amaro nella corte di Palazzo dei Celestini. E dal tramonto all'alba una grande festa arricchita da spettacoli di musica, danza e teatro. Passiamo al meteo. Nelle prossime ore c'è lo poco nuvoloso in serata e durante la notte torna il sereno, temperature comprese fra 20 e 29 gradi, venti per lo più deboli da nord ovest e infine mari mossi. Ancora vi ricordo i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net. È tutto, grazie per essere stati con noi e a più tardi. Grazie. Grazie. Grazie.